Tocca stavolta a Samuele Rossi essere chiamato ad indossare la maglia giallorossa per la stagione sportiva 2019-2020 e infatti l'FC Bassano 1903 ad averlo convocato e farlo così annoverare fra le fila dei giocatori che difenderanno i colori del Bassano. Samuele Rossi, difensore classe 2000, nelle ultime due stagioni ha militato al Marossica, società dalla quale approda Bassano.